Green Fashion Lab, la moda protagonista di nuovi percorsi creativi e visionaria nell'utilizzo di materiali di recupero tra sostenibilità e nuove opportunità. Un evento di Confartigianato Imprese Padova con il patrocinio del Comune di Padova e il contributo di EBAV dedicato alle aziende del settore moda. Green Fashion Lab. Ti aspettiamo martedì 5 luglio alle ore 18 presso il Centro Culturale San Gaetano di Padova. Per informazioni e descrizioni visita il sito www.confartigianatoimpresepadova.it